Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale per questo nuovo video tecnicamente dedicato anch'esso a Captain Subaza Dream Team prima di cominciare saluto Tizzy Dragon si ammesso che si dica così, la pronuncia chiedo sempre scusa se è quella che è ad ogni modo dicevo tecnicamente dedicato a Captain Subaza Dream Team però nella fattispecie a un'iniziativa da parte del buon Roger Ortega chi non lo conoscesse è comunque uno dei personaggi di maggior risalto per quello che riguarda la community italiana e non solo quella italiana di Captain Subaza Dream Team su Facebook che ogni tanto si nasce fuori con questa bella idea di organizzare questo torneo è il gran torneo, la Ortegas Cup io sono sempre molto favorevole a queste iniziative perché vanno secondo me a compensare quelle lacune a livello del PvP che il gioco non riesce in questo momento a soddisfare per diversi motivi è un torneo comunque, il mio modo di vedere, è abbastanza equo e sotto certi punti di vista anche magari un pochettino più intelligente rispetto agli ultimi Dream Championship, Coppa Europea, Coppa Giappe Sudamericana che la club ci ha abituato il torneo funziona nella seguente maniera è la terza se non ricordo male è la terza Ortega's Cup c'è un premio, un pack in regalo da 200 Dreamball che va a giustificare la quota di partecipazione se non ricordo male c'era una quota di partecipazione che adesso mi sfugge, dovrebbe essere 5€ però sto andando a memoria in realtà quando voi vedrete questo video il torneo è anche già bello che è iniziato però sapete che purtroppo i miei tempi sono biblici dal punto di vista delle presentazioni e tutto quanto in compenso so che c'è Andrea Baldini che sul suo canale YouTube aveva fatto proprio la presentazione in live di questo evento quindi eventualmente qualcuno l'avrà già visto sicuramente da lì ad ogni modo dicevo il limite è il level cap massimo delle squadre 900.000 punti quindi comunque si parla di top squadre molto più alte rispetto a quello che siamo abituati a vedere nei normali tornei di Captain Tsubasa il limite level cap delle skill invece è più o meno simile sono identiche a quelle della Dream Championship S30, A50, B50 e C40 si potrà portare un'unica formazione scelta dall'inizio alla fine del torneo che non vuol dire che non si possono fare sostituzioni tra primo e secondo tempo ma vuol dire semplicemente che una volta che tu dichiari che la tua formazione è quella con quei giocatori ti devi assolutamente tenere quella dall'inizio alla fine non si possono fare cambi per aumentare in più la potenza cioè voi non potete mettere una squadra tra virgolette più scarsa in un tempo e poi più alta che sfori 900.000 punti nel secondo tempo ripeto non vuol dire che non si possono fare cambi ma vuol dire che non si possono fare le furbate che è una cosa diversa un solo modulo a disposizione se la connessione cade sarà la partita conteggiata a persa assicuratevi della connessione si usa il buon senso nel pieno spirito della sportività ragazzi spirito della sportività qua da noi in Italia ultimamente è un miraggio io mi auguro che il buon Roger sia riuscito a inculcare questa cosa nei partecipanti avrei tanto voluto partecipare anche io dico la verità perché a me questi tornei piacciono qualcuno su Facebook ho letto che ha sollevato una questione dal punto di vista prettamente legale perché questa cosa comunque del fatto della quota di partecipazione non sarebbe legale o meno per la legge italiana io alzo le mani dico la verità io di queste cose non ci capisco assolutamente niente non ho studiato legge quindi non lo so io mi limito a dare la mia opinione da osservatore esterno ed imparziale e ripeto io sono favorevole a questo genere di iniziative perché come ho detto a inizio video vanno secondo me a compensare alcune lacune per quello che riguarda il pvp che purtroppo il gioco ha non ho musica di sottofondo perché l'ultima volta che ho messo una musica di sottofondo mi hanno detto barda guarda che si rischia di sentire più la musica della tua voce ed era al 10% meno non si può quindi ho detto tanto vale che a questo punto faccio la presentazione così vocale senza musica senza niente andiamo a vedere chi sono i partecipanti e i vari gruppi partiamo naturalmente con il gruppo A Robert Lescano Alfaro Giorgio Taddeo Alessio Ribelli Tony Ducro Salva e Joe Angulo è un torneo internazionale perché come dicevo prima Roger non è attivo solamente nella pagina italiana di Captain Subbasa Dream Team e quindi siamo anche come si dice multilinguage in questo torneo analizzando direttamente le squadre di questo gruppo A squadra di Robert 829.600 punti di partenza è una mono giapponese mista vediamo che c'è Aoi Samurai che io avevo pronosticato tra le altre cose in uno dei post di Facebook che sarebbe potuto essere a mio modo di vedere sarà uno dei grandi mattatori di questa coppia c'è quella coppia lì in mezzo che io veramente erosico tantissimo tutte le volte che vedo sono i due giocatori non Dreamfest e non Dream Collection che desidero di più in questo gioco e che mi mancano che sono appunto Aoi e Misuya so di quadri mannaggia mea quando ho buttato via quel Misugi interessanti le team skill perché lui ha attivato sicuramente quella di Roberto poi c'è un super solidarietà con per gli otto giapponesi di tipo agilità in campo da qui anche la scelta vedo di mettere di mettere Savada io personalmente avrei messo Akai avrei messo Akai avrei spostato Aoi un pochettino in avanti sarebbe cambiato poco però magari lo metterà magari lo metterà nel secondo tempo e invece una che aumenta i parametri dei giocatori dei giocatori giapponesi team sicuramente interessante una mediana pazzesca attacco attacco Dreamfest classico delle formazioni in mono blu e comunque quella coppiettina lì formata da Aoi e Roberto che secondo me secondo me farà tanto tanto male Tony Ducro sotto 180.000 punti 281 praticamente di squadra interessante questa squadra non ha Aoi già per me una sorpresa mi sarei aspettato di valutare tipo una ventina di squadre tutte con Aoi super solidarietà manetta tre praticamente tre abilità di squadra tutte con super solidarietà per i giocatori giapponesi di tipo agilità Aoi Shizaki l'indifesa che rompe l'immancabile Misugi che quello non manca veramente mai Misaki quello lì mi sembra quello 0,01% adesso l'immagine è un pochettino sgranata attenzione alla panchina perché non può superare i 600.000 punti è vero però c'è quel Napoleon e quel Diaz che ragazzi tra primo e secondo tempo in vista di eventuali supplementari quando ci saranno probabilmente i supplementari li faranno solamente nella fase finale con l'eliminazione diretta e quelli possono fare la differenza gran bella squadra tra l'altro gliela invidio molto devo dire la verità perché 881.000 punti per me sono ancora un miraggio inarrivabile un po' più standard Joe Angulo formazione da verificare perché aveva superato i 900.000 punti consentiti in realtà gli basterebbe togliere un giapponese azzurro qualunque e mettere Aoi per sistemare la cosa oppure semplicemente cambiare il portiere addirittura tre portieri non capisco sinceramente l'utilità perché già tanto Wakashimazu di per sé è instancabile e quindi avere altri due portieri in panchina a questo punto avrei messo Muller titolare e avrei tenuto Genzo in panchina sì è vero che togliere Wakashimazu è uno spreco però così secondo me ci perderebbe di meno visto anche le abilità di squadra anzi forse sarebbe stato meglio Genzo come titolare visto che ha due super solidarietà e uno che credo che dia il 17% ai giapponesi di tipo azzurro non a caso la sua formazione principale fondamentalmente è una mono giapponese mono azzurra con l'inserimento di quel Roberto lì in mezzo che comunque ci sta sempre bene perché piglia bonus dai giapponesi da bonus come abilità passiva ai giapponesi ha optato per il monocolore con delle eventuali sorprese nei secondi tempi o nei tempi supplementari ripeto i tempi supplementari credo che ci saranno solo nella fase di eliminazione diretta con quella O in panchina che dà sempre fastidio e ecco mi aspettavo di vederlo titolare forse però che caspita anche vederselo entrare tra primo e secondo tempo è una di quelle sostituzioni che all'avversario ti fanno girare un attimino i 5 minuti adesso i ribelli si va sempre di super solidarietà ma si cambia colore 875.000 punti complessivi qua il super solidarietà è dato dai giapponesi di tipo resistenza portieri ok sia Ken come titolare che Genzo come riserva mi interessa molto bello anche quel Soda come riserva per i 3 difensori che comunque spaccano perché hanno i 2 samurai nuovi latenti Misugi e Akai che veramente lì in mezzo fanno danni ecco gli manca forse ha i Shizaki in panchina non so forse con il bonus di Urabe io avrei eh no avrei pensato a metterlo col piffero perché l'altro è Gisto Dream Collection è fatto benissimo allora in difesa non ha sicuramente problemi Furbo ha messo anche un Nino in panchina eventualmente per affrontare le squadre che avranno Wakashimazu Azzurro che come abbiamo visto sono la maggior parte interessante anche la scelta di Nita adesso non so se è il samurai o se è quello vecchio con la maglietta dei mondiali under 20 se fosse quello vecchio lui guadagna il bonus in base ai giocatori giapponesi che sono in campo quindi praticamente tutta la sua squadra tranne Roberto che è immancabile perché veramente Roberto è come il prezzemolo da bonus a tutti e quindi nessun tipo di problema ha Takeshi che va a potenziare Yuga e ha il mio amatissimo amore veramente indiscusso Yuga dell'evento a tempo il time attack lo Stormy Resurrection che io veramente lo sto amando in una maniera che voi ragazzi veramente non potete capire è un amore viscerale tra l'altro furbissima questa cosa perché è un giocatore che ha delle statistiche di base comunque piuttosto basse quindi mettendo lui con tutto il resto della squadra fortissima è comunque sicuro almeno di partenza di non superare i 900.000 punti è molto 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 intelligente questa cosa bravo Alessio approvo Gruppo P Jacopo Pernici Gian Pietro Zanettin Salvo D'Urso Nahuel Barreza e John Emerson io chiedo scusa se qualche ragazzo straniero poi gli capiterà di vedere questo video per la pronuncia pessima che ho io ho dei nomi dei nomi stranieri ma già alcune magari le canno pure in italiano figuriamoci gli stranieri John Emerson 809.000 punti di squadra è una monogiapponese mista costruita tutto sommato bene devo dire è vagamente simile alla monogiapponese mista che utilizzo io quindi non è che posso stare a sindacare più di tanto le abilità di squadra sono due per i giocatori giapponesi e una che è quella di Roberto classica per giocatori giapponesi e sudamericani naturalmente qua i giocatori di punta sono Aoi come sempre Yuga che con Sawada comunque guadagna anche dei bonus discreti mi sembra che Sawada gli dia il 2% più l'1 a tutti i giocatori giapponesi nitta che anche qui non riesco a capire mannaggia dall'immagine se è quello nuovo samurai o se è quello vecchio della dream collection cioè quello vecchio che guadagna il bonus dai giocatori giapponesi ma in entrambi i casi secondo me è buono interessante la scelta del trequartista perché c'è Misaki quello con il bonus per il tiro a mezz'altezza rischiosa devo dire la verità perché comunque stiamo parlando di una coppa dove il level cap massimo delle tecniche di tipo A è un 50 secondo me quel Misaki va ancora bene quando Pro può sfruttare a pieno il suo tiro e farlo arrivare fino a 80 non che a 50 faccia propriamente schifo ma fondamentalmente basta evitare di farlo arrivare in area di rigore e da quello che vedo anche i due esterni che non sono degli esterni molto devoti all'assist cioè Roberto e Tsubasa sono degli esterni un pochettino più offensivi a livello di goal certo non dovrebbe avere problemi a fare tiri in porta quello si è dalla trequarti in su e anche la mediana considerando Aoi è una trequarti che tira 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 bene però insomma il fatto che manchi Santana vuol dire che Tsubasa non può utilizzare il suo tiro S a meno che non gliene abbia che non gliene abbia passata un altro curiosa la scelta anche in questo caso dei portieri lui probabilmente punta a dare il massimo possibile con Genzo durante il primo tempo e poi se Genzo è stanco mettere Wakeshimazzo nel secondo tempo devo dire la verità dovrebbe essere per le squadre che abbiamo visto fino adesso dovrebbe essere veramente 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 bravo lui per andarsela a giocare Yuga potrebbe fargli una caterva di goal con tutti Wakeshimazzo che sono presenti in questo torneo però bisogna anche metterlo nelle condizioni di segnare non è così facile contando che Nitta probabilmente a Wakeshimazzo un po' lo subirà un'incognita sicuramente un'incognita formazione di Jacopo Pernici o Pernici adesso non ripeto non mi sbilancio sulle pronunce mai 874.800 punti anche qua domina la super solidarietà due super solidarietà più un bonus ai giocatori giapponesi di tipo resistenza che naturalmente sono la parte principale della squadra oh c'è quel Yuga 2018 che non mi aspettavo sinceramente di vedere di vedere in questa coppa però va bene perché questa squadra è l'anti Genzo per eccellenza in realtà di Genzo ad oggi ad adesso in che sto registrando mi sembra di non averne visto ancora uno poi magari le squadre saranno un po' mischiate però per il momento mi sembra ancora di non averne viste Morisaki in panchina è la prima cosa che ho visto subitissimo mi sono chiesto perché visto che anche qua c'è già c'è anche Wakabayashi quindi non so perché di questi due portieri però Morisaki in panchina comunque ci sta alla grande visto che lui ha super riserva se non ricordo male Ken come portiere titolare soda mi ha stupito vedere sinceramente soda però ci potrebbe anche stare visto che qualche napoleon io mi aspetto che in questa coppa partecipi e quel soda è particolarmente forte proprio contro napoleon se non ricordo male ha un discreto bonus interessante la scelta di Akai in mediana quindi sarà più volto all'intercettazione che alla difesa che alla difesa in sé e a non far tirare i trequartisti da da casa loro cosa che però in realtà io avendo Ken importa gli lascerei anche fare devo essere sincero l'immancabile Roberto il nuovo Tsubasa Dreamfest che però qua è spostato lateralmente e non da da centrale e che credo non possa utilizzare l'1-2 con Misaki se non giusto nel secondo tempo Misaki così ad occhio mi sembra il nuovo samurai quindi quello che ha super riserva a naso direi che la tattica è tra primo e secondo tempo togliere Roberto perché penso che sia l'unico lì in mezzo che possa essere tolto e mettere dentro Misaki per provare a far segnare Tsubasa ci sta potrebbe essere una tattica molto interessante anche Misugi super riserva in attacco da inserire dentro nel secondo tempo al posto di uno qualunque degli attaccanti che sono spompi anche quel Santana se è potenziato S30 è una grande 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 bomba formazione a mio modo di vedere che fa del suo punto veramente forte le sostituzioni tra primo e secondo tempo grande vantaggio perché non devi stare lì a pensare più di tanto a risparmiare la stamina dei giocatori puoi darci dentro di brutto quanto vuoi che tanto nel secondo tempo ne entrerà sicuramente uno abile quanto lui ripeto problemi con Genzo non le avrà questa squadra il dubbio a mio modo di vedere può essere dato un pochettino dalla difesa perché è vero che che insomma c'è Gito Dream Collection però i Shizaki come centrale ormai è un pochettino datato fortissimo se ha tutte le tecniche farmate a dovere per carità ce l'ho anch'io però è un pochettino datato Soda è troppo situazionale cioè Soda rende rende molto 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 bene contro contro Napoleon ma con tutti gli altri potrebbe un pochettino a mio modo di vedere faticare secondo me l'ha messo dentro per stare nei limiti dei 900.000 punti formazione che veramente se tiene palla se riesce a mantenere il possesso palla è devastante veramente da metà campo in su fa fa spavento come formazione potrebbe soffrire un po' in difesa sul layout di sinistra però 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 comunque i portieri ci sono quindi eventualmente non avrà neanche i problemi o paura di stancare più di tanto il proprio il proprio portiere bella è una strategia se come la sto pensando io punta molto sui cambi fra primo e secondo tempo può essere una strategia alla lunga soprattutto nelle fasi eliminazione diretta dove eventualmente si andrà anche supplementare alla lunga molto molto interessante Gian Pietro Zanettin invece ci dà un colore nuovo prima formazione mono verde che che sto analizzando praticamente Roberto in panchina incredibile allora attacco formato da Yuga e Santana quindi con tutti i wakashimazu che abbiamo visto adesso direi che i problemi non dovrebbero esserci ne quegli azzurri quelli dreamfest mentre invece con quelli rossi però ragazzi quando si gioca monocolore si è perfettamente consci dei rischi che si corrono è molto simile alla mia formazione mono verde direi che è quasi 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 un coppia in colla della mia formazione mono verde l'unica differenza è quel misugi assodi quadri che lì in mezzo fa veramente danni perché fa danni va bene anche Matsuyama dreamfest perché comunque con misugi guadagna anche lui il 10% ha un trequartista centrale prettamente votato all'attacco come Aoi Samurai 1997 e due trequartisti laterali che tuttora sono secondo me fra i migliori assistman del gioco giusta a mio modo di vedere la scelta di quello Tsubasa piuttosto che un altro perché l'abilità latente di quello Tsubasa annulla i malos ai parametri del 100% a tutti i giocatori di tipo tecnico indipendentemente che siano giapponesi o stranieri o che cosa e quindi non dovrebbe risentire di eventuali avversari che danno in malos i parametri ai suoi giocatori due super solidarietà un grande risveglio degli attaccanti centrocampisti offensivi di tipo tecnico e 10% a tutti gli altri giocatori giapponesi di tipo giapponesi e non di tipo tecnico Gito è baulato ma comunque è un grandissimo bloccatore gentile lì in mezzo può dare molto fastidio perché ha il 50% di possibilità di attivare l'autoblocco e quindi dovrebbe essere anche diciamo così al sicuro da eventuali tiri dalla distanza anche se il 50% poi è relativo a me in realtà me lo attivo una volta su 10 però vabbè sono dettagli formazione molto ben costruita devo dire la verità ripeto è quasi tra virgolette un copia in colla di quella che è la mia stessa formazione mono verde la difesa è praticamente identica avremo due giocatori di differenza forse io e lui il portiere Mizugi e vabbè io in attacco non ho quello Yuga o lo Storm Resurrection però bene o male siamo lì il dubbio potrebbe effettivamente essere dato dalla questione difensore più portieri perché vabbè ripeto Gito ha un gran bel blocco ma fondamentalmente ha solo quello Akai ha una gran bella intercettazione tutto sommato se la cava anche nel contrasto ma fondamentalmente non blocca e i due portieri ok ok nel senso che Salines ancora se la gioca se la gioca molto molto bene però è chiaro che non è all'altezza secondo me dei dei portieri Dreamfest avesse avuto Genzo Dreamfest oltre a fare un salto in avanti a livello a livello proprio di potenza di squadra credo di almeno 10-20 mila punti sarebbe stata una mono verde praticamente quasi quasi perfetta così ha ancora ha ancora qualche rischio però è una formazione che è un modo di vedere che da metà campo in su è molto ben studiata Salvo D'Urso 891 mila punti di squadra alla facciazza tra le altre cose quando ti puoi permettere di tenere Aoi e Diez Dreamfest quello nuovo in panchina vuol dire che hai una squadra anche Matsuyama tra le altre cose vuol dire che hai una squadra di mostri siamo tornati sono a mono azzurra due super solitarietà e un bonus ai giocatori giapponesi di tipo di tipo agilità su base Dreamfest è quello vecchio che comunque secondo me in questa formazione è veramente perfetto Savada che dà il bonus a Yuga ci sta la grande Roberto che potenzia tutto due ottimi attaccanti esterni che sono appunto Roberto e Nitta a supporto di Yuga che vanno benissimo Aoi in mediana probabilmente Akai pardon in mediana probabilmente messo perché con Matsuyama avrebbe penso io ha sforato il tetto dei 900.000 punti quindi ha deciso di tenere di tenere Akai che comunque schifo non fa visto che dà il bonus a tutti i giocatori giapponesi in difesa a Ishizaki che è un mostro a Owairan che è un mostro a Gito che comunque con tutti questi bonus è un mostro pure pure lui il dubbio in questo caso sarà non superare non superare i 900.000 punti quando ci saranno da fare gli eventuali cambi tra primo e secondo tempo oh cavolo è vero che effettivamente Aoi pur avendo il 30% dalle super solidarietà dicevo mancherebbe dell'ultimo bonus ai giocatori giapponesi di tipo agilità quindi paradossalmente mettendo dentro nel secondo tempo un giocatore fortissimo come Aoi riuscirebbe penso ad abbassare il limite di quant'alto che basta per poter eventualmente inserire anche anche Diaz Diaz come attaccante esterno in questa squadra è tanta 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 roba bellissima squadra bellissima squadra una delle migliori mono azzurre pseudo mono giapponesi diciamo mono azzurre quasi miste che mi sia capitato di vedere in senso assoluto gruppo C Luigi Gianmarco Mura Giorgio Luffi Marco Boccalone Marco Cappetti gruppo tutto all'italiana dunque squadra di Luigi mono giappone mono azzurra abbastanza standard normale come quasi tutte quelle che abbiamo visto fino ad adesso con però una nota secondo me c'è una nota che stona in questa formazione una sola mannaggia lui ma perché c'è quello Yuga si lo so probabilmente dirà non ho il Dreamfest giustamente se non hai il Dreamfest gioco forza devi mettere questo però a questo punto avrei fatto anche uno sforzo avrei provato a potenziare il prima possibile Savada per metterlo titolare e fare avere quanti più bonus possibili almeno a Yuga tanto comunque nell'arco dei 900.000 punti dovrebbe in teoria starci lo stesso io non credo che Savada al posto di che ne so di Matsuyama cambi di 30.000 punti non penso di 32.000 punti panchina interessante anche lui problemi di portieri zero cioè sua maestà sua maestà Diaz in panchina che è pronto a subvertrare anche Xiao che schifo non fa assolutamente potenzia fondamentalmente vedo tutti i giocatori giapponesi perché ha un super solidarietà e due grandi risvelo dei giocatori giapponesi di tipo agilità quindi è chiaro che lui fondamentalmente punta proprio su quello sulla giappo azzurra giappo azzurra giappo azzurra chiunque dovesse entrare di non giapponese dalla panchina prenderebbe tra virgolette solo il 15% dico tra virgolette perché poi in verità Diaz una volta che ha il full power attivo che abbia il 15% che abbia il 30% rimane 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 sempre un fenomeno comunque 868.000 punti vuol dire ragazzi che ognuno di questi giocatori che ha in campo ha veramente dei bonus stratosferici considerando che sono tutti UR max ma in realtà vedo che c'è tipo mezza poco più di mezza squadra che è anche breccata per esempio Matsuyama non è breccato Oi non è breccato Ishizaki vedo che non è ancora che non è ancora breccato in panchina sia Genzo che Diaz non sono non sono ancora breccati è una squadra che una volta inseriti gli elementi giusti ai posti giusti se avesse trovato veramente yoga dream festa avrebbe boom veramente sopra i 900.000 punti 900.000 punti tranquillamente se la gioca comunque assolutamente anche con con questo piccolo neo se la gioca assolutamente con le formazioni monoazzurre migliori che abbiamo visto fino adesso Gianmarco Mura anche qui stiamo sempre sull'azzurro ma eccolo là eccolo là quel napoleon quel 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 napoleon tre super solidarietà quindi tutti i giocatori che stanno in campo si pigliano comunque il 45% di bonus vuol dire che quel napoleon ha il 45% di bonus e che quello guarani in difesa ha anche lui il 45% di bonus non vedo non vedo ancora le abilità latenti di Shizaki gli avrebbero fatto comodo secondo me in questo torneo magari gli manca proprio solo da sbloccare le abilità latenti delle partite comunque come latenti prende prende Wairan prende Hakae prende Roberto in panchina c'è vedo Ino pronto a subentrare nel secondo tempo sapete che ancora non ho capito se quellino in questo caso viene considerato giapponese o straniero domanda da un milione di dollari Nitta poi c'è l'immancabile Matsuyama anche lui UR Max a livello di riserve eccezionali anche Urabe si piglia comunque il suo 45% con i Shizaki in campo ha la possibilità di attivare la sua panchina problemi di importa non ce n'è tra Waka Shimazu e Genzo e Genzo assolutamente Blue Power ma con una tonalità di verde che là davanti può far male a tanta 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 gente di questa coppa Giorgio Aluffi 855 mila punti due super solidarietà di tipo resistenza e un risveglio dei giocatori giapponesi di tipo resistenza c'è un un Gito Dream Collection molesto in panchina che comunque lascia il posto a Matsuyama con il Teikel che spacca qualunque cosa a un Misugi latente e a un Shizaki uomo vero che male assolutamente non fa tanti latenti vedo mazza alla faccia dei tanti latenti aggiungo perché Aoi in attacco e Roberto con Yuga in mezzo quindi proprio boom anche se in realtà ripeto portieri tecnici in questa coppa fino ad adesso ne ho visto solo uno come titolare in questo momento Misaki Dream Fest con Tsubasa che tra le altre cose è vero non sarà il Dream Fest ma come giocatore di tipo resistenza sa ancora assolutamente il fatto suo anche perché lui guadagna il bonus contro i giocatori giapponesi che abbiamo visto che in questa coppa sono la stramaggior parte per adesso è una coppa indipendentemente dal colore è una coppa a esagerate tinte giapponesi d'altra parte si sa dall'anniversario in poi la club sta spingendo tutto su quello ha spinto molto su quello nel mese di giugno dell'anniversario quindi è naturale che ad oggi le formazioni principali siano giapponese d'altronde il gioco si chiama Captain Tsubasa Dream Team i protagonisti sono giocatori giapponesi mi viene anche da dire che alla fine è giusto così non che mi piace a me non piace come cosa però però la capisco Samada che comunque dà il suo bel bonus tra le altre cose a Yuga è un bicolor fondamentalmente è una rosso è una rosso blu 855 mila punti sinceramente è vero perché gli manca la terza gli manca la terza super solidarietà con la terza super solidarietà si sarebbe beccato anche lui almeno a mio modo di vedere una quindicina di mila di punti in più c'è quel Santana comunque che se ha il tiro ben farmato e lo butti dentro nel secondo tempo ha la prima palla che tocca fa veramente i solchi per terra anche Nitta comunque non è male in difesa nessun problema perché eventualmente entra Gito in porta nessun problema perché eventualmente entra Wakashimazu interessante la scelta di mettere Wakashimazu come riserva non come titolare però considerando che si stanca meno il mio modo di vedere è una scelta intelligente probabilmente avrà le abilità meno farmate rispetto a Genzo anche se con le abilità farmate io direi avrei tenuto la stessa cosa dentro Genzo fino a quando proprio non è stanco morto e poi eventualmente come sostituto come sostituto Wakashimazu bella formazione e belle riserve e qui siamo allo spettacolo devo dire la verità ho aggiustato male la cosa formazione di Marco Boccalon l'albero di Natale proprio l'alberello di Natale classico 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 straordinaria evoluzione del calcio giapponese ripetuto due volte quindi lui fondamentalmente punta anche lui sui giocatori giapponesi straordinaria evoluzione dei guerrieri dei mondiali giovanili infatti mi sembra che forse a parte Wairan però non ne sono sicuro dovrebbero essere tutti i giocatori dei mondiali giovanili ma magari anche Wairan devo dire la verità non mi ricordo Wairan se è la versione dei mondiali giovanili o meno anche perché mi sembra che l'Arabia Saudita poi nei mondiali giovanili ci partecipa nel World of Duty se non ricordo male nota interessante nota curiosa più che altro non è neanche un giocatore breccato o almeno il limit break massimo non ce l'ha nessuno di questi giocatori perché non vedo un max in viola che sia uno per tutta la squadra viene da dire peccato perché caspita ogni ogni giocatore con il limit break guadagna circa 4000 punti più o meno e quindi ha una formazione che ipoteticamente gli 800.000 punti potrebbe superarli veramente veramente ad occhi chiusi però non ne vedo non ne vedo breccato non ne vedo breccato neanche uno non vedo latenti nonostante sia Misugi che Akai che Shizaki potrebbero tranquillamente anche anche Sawada potrebbero tranquillamente essere latentizzati è un'incognita devo dire la verità è un grosso punto di domanda perché potenziando tutti i giocatori al massimo sarebbe una formazione comunque eccellente perché i due Tachibana lì di dietro una volta che entrano dentro in area di rigore specialmente quello azzurro se gli fate arrivare una palla alta una palla a mezza altezza con le tecniche fermate al punto giusto è gol quasi con chiunque è gol quasi con chiunque Yuga comunque si piglierebbe i bonus da Sawada se avesse se Sawada fosse stato latentizzato ripeto questo più che un albero di Natale è un punto di domanda perché con tutti questi giocatori potenziati al massimo nonostante le abilità di squadra siano inferiori rispetto a chi usa naturalmente il Super Solidarietà sarebbe comunque una squadra interessantissima piena di latenti comunque con i bonus giusti e i giocatori giusti con delle soluzioni di gioco interessanti e sicuramente alternative rispetto a quelle che si sono viste fino adesso senza problemi in porta perché comunque con i due portieri Dreamfest problemi in porta non ne ha in questo momento è una formazione boh ecco quando l'ho vista l'ho riassunta così questa è una formazione boh potenzialmente bellissima potenzialmente stratosferica ma sinceramente vorrei vedere commentare una partita di questa formazione per vedere poi effettivamente sul campo come si concretizzano tutte tutte queste novità le chiamo novità in realtà novità non sono ma per quello che abbiamo visto fino adesso effettivamente si potrebbe parlare tranquillamente di novità ultima squadra del gruppo c'è l'altro Marco Marco Cappetti 754 mila punti anche qui di squadra formazione prettamente di tipo resistenza ma mista e forse per la prima volta incentrata più sui giocatori stranieri che su quelli giapponesi o quantomeno siamo in 50 e 50 il giocatore in panchina che non vedete ve lo dico subito è uno dei gemelli tachibana l'attaccante quello rosso delle medie adesso non mi ricordo Semasa o Kazoo straordinaria evoluzione del calcio giapponese sudamericano l'abilità di Roberto grande risveglio dei giocatori sudamericani di tipo resistenza è l'abilità se non ricordo male di Santana grande risveglio degli attaccanti centrocampisti offensivi di tipo resistenza la butto giù così la prima cosa che mi è venuto in mente quando ho visto questa formazione è palla Santana che ci pensa lui perché tutti e tre i bonus sono principalmente incentrati su Santana o su Santana su Santana oddio anche Diaz Dreamfest e naturezza 0,01% e quei tre lì in teoria possono fare male 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 la sfortuna tra virgolette come abbiamo visto fino ad ora è che la stramaggior parte delle formazioni che giocano questo torneo sono delle formazioni monoazzurre e quindi comunque hanno dei bei bonus contro contro questi contro questi giocatori Yuga in attacco va bene ma prende molti meno prende praticamente nessun bonus dell'abilità di squadra e molti meno bonus di quello che potrebbe dai suoi compagni di squadra perché qua vedo che di giocatori giapponesi fondamentalmente oltre a lui ce ne sono solo tre Tsubasa Misugi e Wakabayashi giocarsela senza neanche un bonus al portiere a mio modo di vedere in un torneo competitivo come questo è un rischio veramente 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 esagerato perché ci sono attaccanti e centrocampisti offensivi io se veramente avessi dovuto puntare tutte le statistiche su due giocatori di numero cosa che sto facendo adesso per esempio io nella Dream Championship nella mia Dream Championship ho puntato tutte le statistiche possibili su due giocatori il portiere e l'attaccante perché almeno so e vabbè ci sarebbe anche un Savada in mezzo il portiere è Genzo l'attaccante è Yuga l'avete visto nella mia ultima live il centrocampista è Savada lo schema sarebbe Genzo para palla a Savada Savada la dà Yuga Yuga tira si possono giocare le partite e vincere le partite anche con squadre statisticamente molto più forti utilizzando questa strategia però il portiere deve avere bonus sinceramente qua andarsela a giocare così con un portiere senza bonus vuol dire speriamo che Kals là in mezzo intercetti tutto l'intercettabile possibile cosa che tra le altre cose può benissimo fare perché quel Kals sarà anche uno dei primi giocatori Dreamfest usciti però là in mezzo con i bonus giusti fa veramente ancora tanto 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 danno e poi palla e poi palla agli attaccanti ripeto in realtà una volta che la palla ce l'hanno Diaz Natureza e Santana sta in cassaforte Santana se ha il tiro potenziato S30 con tutti quei bonus 1-2 gol a partita dovrebbe farli quasi sicuramente contro quasi chiunque perché comunque i bonus sono veramente veramente tanti l'incognita a mio modo di vedere è la tenuta difensiva formazione di Stefano 858.000 punti con due super solidarietà date dagli giapponesi di tipo tecnico fra i quali spicca un Misaki 0,01% e un ulteriore bonus del 12% ai giocatori giapponesi io dico la verità io qua piuttosto che Matsuyama avrei buttato dentro Takeshi se riesci secondo me se riesci a portarlo a fargli il limit break prima dell'inizio della coppa comunque a coppa in corso io sostituzione sostituzione tra primo e secondo tempo Takeshi e Matsuyama l'avrei l'avrei fatta più che altro perché Takeshi ci va a dare anche bonus a il mio amore Yuga Storm Exurrection che sta là in attacco e che a mio modo di vedere forma una bellissima coppia con coppia con con Aoi Samurai 1997 l'immancabile Roberto che è come il prezzemolo nelle formazioni giapponesi Roberto ci sta sempre ci sta sempre bene ammazza che difesa ragazzi Genzo in porta Akai Latente che blocca il tiro dell'avversario e Ishizaki che pompa a destra manca e fa veramente di tutto lui nel dubbio si è tenuto in panchina un giocatore straniero di tipo tecnico come Ino che potrebbe andar bene contro tutta la mole di Wakashimazu di tipo agilità di Wakashimazu Dreamfest che abbiamo visto fino adesso scelta saggia a mio modo di vedere ha tenuto un gentile vabbè così che se non altro lui contro i giocatori giapponesi dovrebbe essere abbastanza buono e soprattutto quel gentile toglie se non ricordo male il 10% ad Aoi quindi contro le formazioni che usano Aoi Rosso Samurai 2018 anche buttare dentro un gentile tra primo e secondo tempo che gli depotenzia un po' le statistiche schifo non fa Soda comunque un ottimo terzino Morisaki è comunque un ottimo portiere di riserva Gito vabbè messo lì giusto giusto credo tanto per ma ha il suo bel blocco e comunque servirebbe sempre a tenere la media dei giocatori giapponesi di tipo tecnico per il bonus della super solidarietà molto curioso di vedere appunto come funzionerà la coppia d'attacco Aoi Yuga Storm e Ration Raction e soprattutto di vedere quel Misaki 0,01% che io l'ho incontrato pochissime volte ma che tutte le volte che l'ho incontrato a me personalmente mi ha fatto parecchi parecchi danni Davide Zumbo 880.000 punti qua siamo proprio allo standard formazione mono rossa mono giapponese direi quasi scolastica è la mono rossa mono giapponese quasi perfetta quasi perfetta mancherebbe mancherebbe la CAI 1997 con la CAI 1997 saremmo davanti alla formazione mono rossa mono giapponese perfetta la due coppia la coppia di tre quartisti Dreamfest per eccellenza Misaki e Tsubasa quello nuovo che se entra in area di rigore con tutti questi bonus veramente secondo me fa anche un cratere sulla luna da tanto tira forte Yuga e Nitta standard perché è la miglior coppia giapponese in attacco che si può fare in questo momento di tipo resistenza è quella Aoi perché in una formazione mono rossa mono giapponese Aoi ci deve essere Urabe purtroppo gli mancherà gli mancherà un po' il suo compagno Isshizaki per attivare i bonus e anche un Isshizaki 2018 al posto di quella CAI non sarebbe non sarebbe andato male ma non avendolo ci può comunque ci può comunque stare in panchina altri giocatori di tipo resistenza ma vedo che vabbè sì ci sono i due Tachibana comunque che caspita non fanno schifo neanche loro c'è Snyder che comunque si piglia il bonus del fatto che la formazione è mono rossa e quindi c'è chi se ne frega c'è Robson che comunque è un autoblocco c'è il nostro buongino che se non altro tiene alto i bandieri della i colori della bandiera italiana non ho visto mono verdi come dicevo prima a parte una a parte una di mono verdi in giro almeno per quelli che ho visto fino a questo momento che sto registrando magari da qua in avanti mi buttano fuori 10 mono verdi non lo so per adesso l'ho vista mi sembra una sola sono quasi tutte mono azzurre ma con questi giocatori e questi bonus questa è una formazione che secondo me se la può giocare tranquillamente anche contro formazioni del colore più forte Mirko Coglini mi viene il dubbio che prima ho detto Marco se ho detto Marco ti chiedo scusa Mirko allora 900.000 punti adesso non so se quei 931 in più glieli faranno tenere o meno glieli farei tenere però vabbè anche se dovesse togliere mille punti capirai super solidarietà manetta 15 15 15 45% a qualunque giocatore che entra in campo se i giocatori giapponesi di tipo agilità sono almeno 8 e così a occhio dovrebbero rimanere 8 bello perché è dovuto stare nei 900.000 punti perché se avesse messo che ne so Matsuyama o Diaz al posto di Sano apriti cielo apriti cielo sarebbe veramente venuto venuto giù il mondo coppia d'attacco Tachibana e Yuga e caspita e là in attacco il Tachibana sarebbe stato meglio il Dreamfest però mi rendo conto che quell'altro può fare solo l'attaccante quindi oggi o giochi con 3 attaccanti o gioco forza te la devi te la devi te la devi giocare così forse io avrei ecco avrei tolto il modulo X per depotenziare un pochettino la squadra avrei messo un mediano in più o avrei giocato col 3-1 3-3 per stare sotto i 900.000 punti e sfruttare i giocatori magari nei loro ruoli più congeniali sto dicendo le prime cose che mi vengono in mente quindi se sto magari facendo uno sproloquio non fateci non fateci caso ok portieri problemi 0 Bokashimazu e Genzo nessun problema difesa stratosferica perché Shizaki fortissimo Ueran è divino a me non piace tantissimo quel Gito però con un 45% di bonus non ha molto blocco non ha molto blocco però il contrasto si farma abbastanza facilmente e l'intercettazione comunque è il suo top quindi quindi va bene anche tanto anche se uno tira da quella posizione è un tiro abbastanza riesce fuori un tiro abbastanza angolato e Bokashimazu di problemi non dovrebbe averne particolarmente Misugi a su di quadre lì in mezzo imprescindibile sono assolutissimamente d'accordo la tre quarti è veramente 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 buona a parte Sano che ripeto penso che sia stato messo dentro più che altro per tenere basso il livello della squadra anche se si poteva tenere basso il livello della squadra mettendo giocatori anche differenti su posizioni tutte mie panchina eccellente perché comunque Matsuyama latente Urabe latente considerando che c'è i Shizaki Diaz Diaz Rinfest che vuoi dire Akai che comunque è latente e Genzo è una panchina eccezionale formazione stratosferica con dei bonus oggettivamente assurdi ragazzi che altro c'è da dire niente è una formazione che si commenta praticamente da sola Alessandro Abbanese 896 mila punti e delle abilità di squadra molto interessanti perché ha un doppio super solidarietà con i giocatori giapponesi di tipo rosso che sono praticamente quelli dalla difesa fino alla tre quarti e poi ha portieri e attaccanti di tipo agilità con la terza abilità che dà comunque il 13% al portiere e agli attaccanti quindi che il portiere agli attaccanti non siano non siano rossi non gliene può fregare assolutamente di meno quel 2% gli impediti quel 2% tra il 13 e il 15 che sta nell'ultima team skill è quel tanto che gli basta per non sforare il tetto dei 900 mila punti ed è splendida è splendida veramente come formazione perché non è rossa ma non ma non è debole comunque contro le formazioni di tipo agilità perché l'attacco è di tipo agilità e il portiere è di tipo agilità e quindi problemi di questo tipo non dovrebbe averne non ne avrebbe neanche se mettesse in porta Genzo come sostituto perché i suoi bonus rimarrebbero completamente invariati quindi veramente per quello che mi riguarda chapeau pensata e studiata veramente bene non ha come punto forte devo dire la verità la panchina perché a parte lo stesso Genzo e i Shizaki ok Matsuyama non potrebbe comunque metterlo perché si perderebbe due due super solidarietà l'unico che potrebbe eventualmente si potrebbe mettere Matsuyama se mette Nitta in attacco quindi va bene in quel caso forse la solfa rimarrebbe uguale però capite che sono dei cambi forzati cioè lui se dovesse mettere uno fra Matsuyama e i Shizaki dovrebbe per forza di cose mettere anche Nitta in attacco per mantenere il bonus super solidarietà l'incognita è questa l'unica incognita è questa perché in realtà per quanto riguarda l'undici di partenza ripeto tanto di cappello e chapeau perché l'ha pensata veramente 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 bene Alejandro Carvajal spero che stavolta la pronuncia di averla azzeccata e l'ha pensata anche lui bene perché l'hanno pensata alla stessa maniera stessi bonus sia di super solidarietà che del Warriors grande Mers non il Giappano World of Health eccetera eccetera vabbè 13% agli attaccanti ai portieri e ai giocatori World of Health quindi fondamentalmente anche i giocatori là davanti che non sono di tipo resistenza tipo Roberto o Yuga si pigliano comunque un bel un bel 43% pulito 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 Aoi e vabbè è chiaro a Tsubasa a Misaki che qua gioca come mediano interessante sta cosa perché effettivamente quel Misaki dove lo metti dove lo metti sta eccezionale Misaki Dreamfest da questo punto di vista io l'ho pullato solo nel Super Dreamfest ma veramente mi sta dando grandissime soddisfazioni il mio amatissimo Yuga Storm Resurrection là davanti io veramente ti auguro di andare più avanti possibile anche solo per il fatto di avere Yuga Storm Resurrection perché io lo sto stramando quel giocatore Nita e Roberto che sono comunque due punte di supporto molto molto buone Urabe che può anche godere del bonus con i Shizaki quando questo si attiva e quando si attiva Urabe tantissima roba Matsuyama va bene anche no cos'è quello non è Matsuyama quello è Misugi pardon mi sono straconfuso malissimo Misugi 1997 va benissimo io mi auguro che questo ragazzo vada più avanti possibile fondamentalmente per un motivo è il primo è il primo che ho commentato fino a questo momento che ha portato Espadas e quindi per me sappi sappi Aleandro non so se qualcuno ti tradurrà mai quello che io sto dicendo in questo momento sappi che tu per me sei già il vincitore morale per l'ultimo gruppo il gruppo è Roger che gioca in casa Luca Nohwan Alberto Zambonin Danilo Loiacono e Alessandro Burgio Alberto Zambonin e qui abbiamo il secondo vincitore morale di questa coppa anzi forse ancora più di Aleandro ancora più di Aleandro perché lui Espadas l'ha messo titolare e gli ha dato il 45% grazie alla super solidarietà dei giocatori giapponesi di tipo resistenza Alberto sappi che per me in questo momento sei il mio favorito in questo momento sei il mio favorito intanto per il modulo 3-2-3-2 che è il mio preferito poi c'è il mio giocatore preferito e ha una formazione a mio modo di vedere studiata con i contropacchi l'unica nota forse negativa che vedo in questa formazione è quel Matsuyama lì in mezzo però capisco perché l'hai messo l'hai messo perché se avessi messo Gito e avessi spostato Akai nella mediana avresti strasforato i 900.000 punti visto che già sei a 900 e 206 era un rischio che non andava bene che non andava bene correre ci sta ci sta assolutamente sei più che giustificato per questa cosa 3-4 spettacolare Aoi Misaki e Tsubasa è la 3-4 giapponese rossa perfetta perfetta in mediana comunque a parte Matsuyama Urabe con i Shizaki si attiva la passiva dei bonus stratosferici Akai sigilla la tecnica di tiro di un avversario Shizaki l'uomo vero si presenta da solo Misugi anche lui 1997 latente è straforte Nitta si prende Nitta credo che sia quello 1997 quello quindi comunque ha un dico occhio perché in realtà Nitta tra quello 1997 e quello con la maglietta del World Youth sono praticamente quasi identici quindi adesso vado a occhio mi sembra quello del 1997 e poi Napoleon con il suo bel 45% messo lì per dare le legnate a Wakashimazu da quello che abbiamo visto adesso il 90% delle squadre ha in porta Wakashimazu o la versione Dreamfest o la versione Samurai quindi veramente un bijou eventualmente Roberto per subentrare dalla panchina eventualmente Yuga anche che però penso che andrebbe in questo caso con Yuga andrebbe a sforare i 900.000 punti Gito sempre ragazzi se lui avessero voluto mettere veramente la formazione mono giapponese mono rossa secondo me questo arrivava a 930.000 punti perché se metteva Gito al posto di Shizaki beh no non cambiamo in realtà un gran che perché il 45% ce l'hanno tutti lo stesso quindi no probabilmente sarebbe stavo per dire una cavolata il 45% ce l'avrebbe comunque quindi bene o male il totale sarebbe rimasto questo a prescindere però mamma mia veramente tanta 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 roba Alberto sei il mio in questo momento sei il mio favorito favorito nel senso proprio di squadra nel cuore anche solo per quelle spade che proveranno tutti a stancartelo in tempo zero ma chi se ne frega tanto vedo che al massimo entra uno tra Genzo e Wakashimazu quindi fregatene grande mettilo capitano toglilo da Tsubasa fai capitano Spadas vincerai di sicuro Danilo 814.000 punti una giapponese mista con credo la super solidarietà esatto dei giocatori giapponesi di tipo tecnico più una straordinaria evoluzione dei guerrieri della nazionale giapponesi ah si ok il 13% anche questo anche questo fra quelli che se le studiate veramente bene perché comunque va da il 43% se lo pigliano tutti attacco bello bello con Roberto e Aoi così larghi credo che sia il primo che sto commentando con il 3223 come come formazione Misaki 0,01% in mediana in mediana so perché l'ha messo in mediana perché forse tra i due sarebbe stato meglio Savada in mediana però Savada se non ha il contrasto lo salti come niente quindi potrebbe averlo messo lì per quella posizione io comunque me la sarei rischiata e avrei invertito Savada e Misaki devo dire la verità però dettagli da metà campo in su formazione molto 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 buona pecca forse per il fatto che non so quello Tsubasa e Savada col fatto che non siano ancora breccati potevano fargli guadagnare qualche migliaio di punti in più e la difesa la difesa un po' stona perché ok Soda col blocco è fortissimo Gito col blocco è fortissimo Akai con l'intercettazione è fortissimo ma qualunque altra tecnica utilizzata che non sia blocco blocco intercettazioni per saltarli quei tre probabilmente li si salta li si salta vabbè Gito penso che sia stato messo dentro più che altro perché vabbè è più forte per tenere il bonus super solidarietà attivo ha anche lui in difesa che nella fattispecie va benissimo per tutte le volte che affronterà Wakashimazu Dreamfest ha in porta Wakashimazu Dreamfest vedo che i portieri comunque ormai problemi di portieri pochissimi ce li hanno ormai nel gioco perché la club è veramente tra samurai e Dreamfest li sta allargendo veramente come se fosse niente si pensa anche ad un nuovo portiere Dreamfest probabilmente Muller per il Dreamfest di fine mese vedremo come andrà a livello di valori di squadra potrebbe essere non li ho ancora viste tutti potrebbe essere l'underdog del gruppo però secondo me da metà campo in su è molto 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 forte deve contenere quanto più possibile quando si tratterà di difendere la squadra di Roger Roger God umile ragazzo umile allora 900.000 punti anche qui vabbè standard cos'è una quasi mono giapponese mono mono azzurra c'è dentro quello quello xiao lì in mezzo che non è giapponese che magari non si piglia tutti i bonus che si deve pigliare ma chi se ne frega perché tanto a lui a 900.000 punti ci arriva lo stesso i shizaki la di dietro spacca lo stesso Muller e Wakashimazu uff problemi di portiere meno che zero tre registi sulla tre quarti vabbè è standard è una mono giapponese mono azzurra quasi perfetta è molto standard c'è fondamentalmente c'è solo un intruso che che appunto è xiao ma a livello di statistiche qualunque di questi giocatori ha veramente delle statistiche straordinarie veramente cosa sono forse anche più del 45% adesso non mi ricordo se il grande risveglio arriva solo al 15% non mi sembra che arrivi forse quello di forse arriva anche al 17% vabbè adesso è inutile che sto registrando da più di due ore praticamente quindi è inutile che parto in sproloqui anche in questo caso vabbè la formazione del padrone di casa tra virgolette arriva a 900.000 punti è un'altra di quelle formazioni che si commenta da sole ultimo giocatore del gruppo Luca No One 887.000 punti anche qua tre super solidarietà quindi ci hanno tutti il 45% tre portieri ragazzi mi dovete spiegare perché portate tre portieri ma avete così tanta paura di stancare Wakashimazu è quasi instancabile di suo gli mettete addirittura Muller e Genzo in pancata ah forse perché se becchi quello che è forte contro i giocatori giapponesi meglio mettere lo straniero sì ok ci sta ad ogni modo Ishizaki quello se non ricordo male è quello della Dream Collection o Iran versione versione semidivina Jito che comunque con quei bonus schifo assolutamente non fa mediana Akai e Misaki Misaki che va benissimo come regista Roberto che pompa assolutamente tutti compreso quel Diaz in attacco coppia d'attacco Diaz Yuga in questo caso veramente al bacio visto che Savada potenza anche Yuga si può permettere di tenere Aoi Samurai in panchina per ogni eventualità per ogni evenienza e anche di tenere Matsuyama in panchina per lo stesso motivo panchina straordinaria assolutamente panchina straordinaria considerando che comunque Akai si piglierebbe lo stesso il 45% di bonus perché non vedo modo in cui questa squadra può perdere il bonus super solidarietà se metti dentro Akai al posto di Roberto per dire il bonus super solidarietà rimane invariato o Akai al posto di Diaz per dire eccezionale anche questa è una formazione monoazzurra quasi perfetta ultimo gruppo gruppo F altro che le fatiche di Hercules le fatiche di Bard allora Giorgio Giuamanna Lorenzo Capasso Adriano Guarnieri e Marco Galli numero da cioè numero gruppo da una persona in meno perché vabbè il numero di partecipanti quello è Marco Galli come quello di Radio 105 ok vediamo subito le squadre così poi riesco a chiudere in tempi no ormai i tempi sono andati dunque Adriano gioca con una mono giapponese mista classica ma ma molto 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 completa tre abilità di squadra con straordinaria evoluzione del calcio giapponese quindi presumo che sia che dia tipo 12 o 13 per cento a capocchia 12 più 12 più 13 o 13 più 13 più 13 adesso sinceramente non mi ricordo se è 12 o 13 ha i due nuovi tachibana a shingo a shingo a mizugi a su di quadre a mizugi a su di quadre e c'ha la coppia a kai i shizaki anche sawada in panchina ma va bene in questo caso tenerlo in panchina perché yuga è la versione dreamfest e quindi non prenderebbe il 2% da sawada dato che quello lo da solo a yuga a yuga di tipo tecnico ha eventualmente anche un roberto pronto a subentrare dalla panchina che magari non raggiungerà le statistiche dei titolari perché i bonus sono naturalmente inferiori ma che comunque ha una riserva assolutissimamente degna di nota anche qua il problema del portiere non si sa che cosa sia e anche in questo caso nitta in panchina eventualmente come sostituto è più che buono classica classica mono giapponese mista veramente a livello di abilità e di potenziamenti la mista perfetta perché a tutti penso che sia tutti i migliori giocatori giapponesi usciti fino a questo momento o quasi cioè proprio se ne mancano ne mancheranno ne mancheranno un paio di numero lo vedo bene perché la questione del colore vario gli permette di adattarsi un po' a tutti gli avversari di quelli che abbiamo visto di quelli che abbiamo visto fino adesso almeno per quello che riguarda gli altri gironi lui è il primo del suo girone che sto analizzando andiamo a vedere gli altri la formazione di George invece siamo tornati al festival delle super solidarietà perché abbiamo visto che è veramente l'abilità di squadra che spopola in questo torneo come è giusto che sia d'altra parte assolutissimamente mono azzurra formazione mono agilità con Roberto Yuga in attacco l'intero dove lo metti sta c'è anche qua Savada che potenza Yuga c'è il solito Misugi c'è Akai anche qua che dà dei bonus ai vari giocatori giapponesi c'è Huayran la versione la versione semidivina c'è c'è Ishizaki l'uomo vero in versione in versione samurai c'è fondamentalmente tutto quello che ci deve essere interessante quello Schneider latente in panchina devo dire la verità interessante anche in virtù del fatto che oltre che essere stato latente è stato anche breccato quindi non credo che sia un giocatore messo là così tanto per Slender se non ricordo male depotenza i giocatori giapponesi quindi eventualmente potrebbe inserirlo qualora volesse dare qualche malus agli avversari panchina ottima comunque perché c'è anche Matsuyama c'è Matsuyama latente c'è 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 Aoi che in realtà la versione è quella con il tiro se non ricordo male come mediano non è che mi faccia propriamente impazzire però si piglia comunque anche lui una valangata di bonus quindi schifo assolutamente non fa c'è Gentile che comunque anche lui da quando è diventato latente è buono soprattutto se dovesse essere inserito per fronteggiare la versione rossa la versione samurai 2018 di Aoi quel gentile è particolarmente idoneo in tal senso e anche qua il problema del portiere è relativo perché sia Ken come titolare che Genzo in panchina offrono poi col 45% offrono delle garanzie pressoché assolute ultima squadra quella di Lorenzo anche qua 863.000 punti la super solidarietà che la fa da padrona 2 su 3 sono super solidarietà con i giapponesi di tipo di tipo resistenza la terza abilità di squadra è solo per i giapponesi di tipo resistenza spicca il pier fenomeno 2018 quello che era uscito se non ricordo male a novembre vado vado molto memoria credo che sia il primo che vedo in questa coppa c'è anche quel napoleon pronto a subentrare dalla panchina che schifo non fa in questo caso il suo slot giocatore extra giapponese è stato sono stati sono stati presi proprio da pier no sì da pier e da roberto basta eventualmente ci sarebbe spazio per un per un terzo giocatore straniero non giapponese a scelta fra appunto napoleon qualora si affrontasse wakashimazu e abbiamo visto che nel suo gruppo di wakashimazu ce n'è o anche santana qualora si affrontasse si affrontasse genzo che quel santana io ridico sempre se ha la la tecnica di tiro farmata s30 fa un male un male un male cane gentile credo che sia quello della dream collection e anche in questo caso mi sembra che sia il primo che vedo in questo in questo torneo anche per lui anche per lui la tattica dei tre portieri sensata in tal senso perché ha un doppio cambio rosso cioè un doppio cambio di cui uno di tipo resistenza esattamente come il portiere che è già titolare che è Genzo ma c'è anche un eventu un muller di tipo agilità perfetto per affrontare altri giocatori eventualmente di tipo resistenza che comunque si piglierebbe il 45% lo stesso perché al momento i giocatori giapponesi in campo se non leggo male sono 1,2,3,4,5,6,7,8,9 quindi eventualmente anche entrando muller si piglierebbe lo stesso il bonus della super solidarietà quel 30% di super solidarietà perché comunque non andrebbe a modificare i parametri della squadra mentre stavo registrando in queste ore ore e ore e ore e ore in cui stavo registrando mi è arrivato un aggiornamento del torneo appunto in corso lo vediamo al volo e poi veramente chiudo perché penso che come sono stanco io di dire lo siete stanco voi come sono stanco io di parlare penso che sarete stanchi voi di ascoltare eccolo qui ultimo aggiornamento prima della chiusura del video nel gruppo A vediamo che non ha giocato nessuno se vedete dei ragazzi che hanno giocato due volte tra di loro e perché le partite sono andate e ritorno e quindi giustamente uno dice vabbè abbiamo giocato la prima giochiamo anche la seconda e ce la leviamo dalle scatole nel gruppo B hanno giocato John e Jacopo e sono a una vittoria a testa le vittorie qua danno due punti l'avrete notato dalla classifica le vittorie danno due punti dicevo una vittoria a testa presumo 2 a 0 per John e 1 a 0 per Jacopo così a naso vedendo la differenza reti ma ripeto sto andando a tastone in questo caso gruppo C due vittorie a teste per Giorgio e Luigi entrambe suppongo con con Marco Cappetti differenza reti vabbè però forse a ricordare dalle formazioni probabilmente ci sta ecco vabbè Giorgio e Luigi che hanno messo hanno già ingranato la quinta gruppo D una sola partita fino a questo momento fra Mirko e Stefano con vittoria di Mirko con un gol di scarto quindi 1 a 0 2 a 1 adesso sinceramente non lo so perché i risultati ci sono scritti sul gruppo Facebook ma sinceramente non ho avuto ancora modo di leggerli tutti gruppo E due vittorie a testa per Alberto e Luca Roger non ha ancora giocato e in questo caso le sconfitte sono state di Alessandro e di Danilo gruppo F 3 partite giocate 2 vittorie e una sconfitta per Lorenzo una vittoria per 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 Giorgio su 2 partite una vittoria e una sconfitta per Giorgio e una una partita giocata e una sconfitta per per Marco ok si giusto non mi tornavano un attimino i conti non mi tornavano un attimino i conti sul gruppo F basta fatto allora ragazzi che dire in bocca al lupo a tutti i partecipanti del del torneo ho fatto questo video molto volentieri ripeto perché io apprezzo particolarmente le iniziative di questo tipo da parte della della community senza stare lì personalmente a giudicare nessuno perché ho già letto i classici commenti che vabbè ci stanno per carità torneo per sciopponi è una cosa che in teoria non si dovrebbe non si potrebbe fare eccetera eccetera sì ok va bene è vera questa cosa però io sono personalmente rimango ben contento se la community italiana in questo caso si attiva per colmare un pochettino di lacune che il gioco presenta per quello che riguarda la componente pvp sono già stati bravi a mettere il level k alle tecniche il mio sogno è di vedere un torneo solo con squadre oltre 900 k tutte con tecniche formate S99 lì sarebbe veramente tipo scontro fra titani per dire mi piacerebbe anche fare il commento di qualcuna di queste partite vabbè in diretta so che è praticamente impossibile però tutti i ragazzi del torneo che volessero evidentemente eventualmente non evidentemente se volessero eventualmente passarmi i file delle registrazioni delle loro partite il gruppo su gruppo facebook siamo dentro siamo dentro tutti basta tranquillamente registrare una partita o per cellulare o tramite pc programmi per registrazione ce ne è mille inserirla in un cloud classic come può essere non so google drive piuttosto che dropbox condividere il link in modo che io possa scaricare la partita e sarò ben felice di mettere il mio commento alla partita ed eventualmente pubblicarla sul canale faccio molta meno fatica a pubblicare e a commentare le partite degli altri piuttosto che giocare le mie sapete che ultimamente la cosa mi da qualche problemino di troppo quindi ai ragazzi partecipanti se volete vedere le vostre partite pubblicate sul mio canale registratele salvateli in un cloud tipo google drive o dropbox condividetemi il link io le scarico le commento e le pubblico detto questo ragazzi questo credo che sia il video più lungo in assoluto che ho mai pubblicato sul mio canale però la coppa è tanta roba questa coppa è veramente tanta 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 roba sono comunque contento di questa iniziativa sono contento di fare di fare pubblicità un in bocca al lupo a tutti i partecipanti pace belli alla prossima a tutti i partecipanti a tutti i partecipanti